Camillo Golgi è stato uno dei più grandi scienziati italiani, noto soprattutto per le sue scoperte nel campo della medicina. Nato nel 1843 a Corteno, in Italia, ha trascorso gran parte della sua vita dedicandosi alla ricerca scientifica. Da giovane, ha studiato medicina all'Università di Pavia, dove ha dimostrato un talento straordinario nel campo delle scienze biologiche. Dopo aver conseguito la laurea, Golgi ha iniziato a lavorare come medico, ma la sua passione per la ricerca lo ha portato rapidamente a dedicarsi interamente alla scienza. Uno dei suoi più grandi contributi è stato la scoperta del metodo di colorazione di Golgi, che ha rivoluzionato il campo della neurobiologia. Questo metodo gli ha permesso di studiare in dettaglio la struttura del sistema nervoso, aprendo la strada a importanti progressi nella comprensione del cervello umano. Oltre ai suoi successi scientifici, Golgi ha anche avuto una vita personale ricca di interessi e passioni. Amava la musica e suonava il pianoforte, trovando nella melodia un rifugio dalla rigidezza del lavoro scientifico. Era anche un grande appassionato di viaggi, esplorando nuove culture e paesaggi ogni volta che ne aveva l'opportunità. Tra le curiosità sulla vita di Golgi c'è il suo carattere schivo e riservato. Non amava particolarmente essere al centro dell'attenzione e preferiva dedicarsi silenziosamente alla sua ricerca. Tuttavia, il suo lavoro ha parlato per lui, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione della comunità scientifica internazionale. Non possiamo dimenticare che Golgi è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 1906, il riconoscimento del suo straordinario contributo alla scienza. Questo prestigioso riconoscimento ha sottolineato l'importanza delle sue scoperte e il loro impatto duraturo sulla medicina moderna. Anche dopo la sua morte nel 1926, l'eredità di Camillo Golgi continua a vivere attraverso le sue opere e le sue scoperte che continuano ad ispirare generazioni di scienziati in tutto il mondo. La sua vita è un esempio di dedizione, passione e determinazione che rimarrà sempre un faro per coloro che cercano di fare la differenza nel mondo della scienza. Camillo Golgi è stato uno dei più grandi scienziati italiani, noto soprattutto per le sue scoperte nel campo della medicina. Nato nel 1843 a Corteno, in Italia, ha trascorso gran parte della sua vita dedicandosi alla ricerca scientifica. Da giovane, ha studiato medicina all'Università di Pavia, dove ha dimostrato un talento straordinario nel campo delle scienze biologiche. Dopo aver conseguito la laurea, Golgi ha iniziato a lavorare come medico, ma la sua passione per la ricerca lo ha portato rapidamente a dedicarsi interamente alla scienza. Uno dei suoi più grandi contributi è stato la scoperta del metodo di colorazione di Golgi, che ha rivoluzionato il campo della neurobiologia. Questo metodo gli ha permesso di studiare in dettaglio la struttura del sistema nervoso, aprendo la strada a importanti progressi nella comprensione del cervello umano. Oltre ai suoi successi scientifici, Golgi ha anche avuto una vita personale ricca di interessi e passioni. Amava la musica e suonava il pianoforte, trovando nella melodia un rifugio dalla rigidezza del lavoro scientifico. Era anche un grande appassionato di viaggi, esplorando nuove culture e paesaggi ogni volta che ne aveva l'opportunità. Tra le curiosità sulla vita di Golgi c'è il suo carattere schivo e riservato. Non amava particolarmente essere al centro dell'attenzione e preferiva dedicarsi silenziosamente alla sua ricerca. Tuttavia, il suo lavoro ha parlato per lui, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione della comunità scientifica internazionale. Non possiamo dimenticare che Golgi è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 1906, il riconoscimento del suo straordinario contributo alla scienza. Questo prestigioso riconoscimento ha sottolineato l'importanza delle sue scoperte e il loro impatto duraturo sulla medicina moderna. Anche dopo la sua morte nel 1926, l'eredità di Camillo Golgi continua a vivere attraverso le sue opere e le sue scoperte che continuano ad ispirare generazioni di scienziati in tutto il mondo. La sua vita è un esempio di dedizione, passione e determinazione che rimarrà sempre un faro per coloro che cercano di fare la differenza nel mondo della scienza. Grazie. 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 Grazie.